Buona tre anni sul miglio, otto in prima, quattro in secondo, veri giù bene nell'ultima, molto seguito al totalizzatore numero nove con Antonio Di Nardo. Intanto bel primo piano di Marcellino Panevino in quel di Milano con il suo Naxos B. Un po' arretrato Violet 3B. Avvia la macchina. Si lotta, ed è anche serrata la lotta per i birilli, con volere volare alle prese a largo e sta passando Vichingo Klimar. Il lancio nell'ordine del 13 e 7 punta in avanti Minucci con Villar e sta passando al completamento della piegata Villar al comando. Si completa il quarto iniziale, quarto che se ne va nell'ordine del 29 e 6, rimane Nasino al vento, Valchiria numero 6, pedinata dal 7, Verdone Getta. Fuori corsa l'undici di Valbondione e Luis. Si forma una seconda fila, 600 nell'ordine del 45 e mezzo, viene via Forino che punta in avanti. I cavalli affrontano la penultima curva, va a Pensiero Gar, trova un po' di traffico, ma il targato Gar persevera. Mezzomiglio in 1-1-8-16 di frazione, da 17 e mezzo ci viaggia e va a Pensiero Gar, incisivo, ci presenta su Villar. E il Sauro affidato a Forino impegna a fondo il leader, chilometro gettonato in 16-6-14-8 di frazione. I cavalli affrontano il 500 finale, viene via il favorito Verigio e Verigio prende un po' tutti in contropiede. Tony Young passa con Verigio, 14-4-1-31, tre quarti di miglio, scappa via Tony Tony e prende vantaggio. Cavalli ha completamente la curva finale per proprio conto, Verigio, Verigio con Tony Tony Tony, Tony Young. Si lotta per la seconda moneta e Violet 3-B, ancora un 3-B che ha vinto il Gran Premio a Firenze, batte in zona traguardo, va a Pensiero Gar. 1-59-8, 1-14-9, 2-74 in chiusura, una marcia in più per questo Verigio pennellato da Tony Young. Raff chiaro al training, Francesco Danna di proprietà, un bel figlio di Napoleon Bar, ma in sal che c'è lui, Tony Tony, Tony Tony, Tony Young. Linea allo studio.